Ciao, sono Vagna Bagni, presidente dell'Ampio Provinciale di Firenze. Oggi, 25 aprile 2020, festeggeremo questo giorno, molto importante per noi, la festa più bella di tutto l'anno. Non lo possiamo festeggiare nelle nostre piazze, lo sappiamo, siamo nel mezzo di una pandemia, ma non rinunciamo certo a stare bene in questo giorno, a stare insieme, adotteremo e stiamo adottando tutti i mezzi e gli strumenti possibili, ma con la stessa forza, la stessa potenza, con lo stesso bene che abbiamo sempre avuto e che continueremo ad avere a portare con noi, a condividerlo con tutti gli altri. Per salutare questa bella giornata, il fratellamento è uno spazio comune a cui ci teniamo tantissimo perché è prezioso, è uno spazio di condivisione e ho scelto di farlo leggendo un pezzo di un brano, che il titolo è La Liberazione, da questo libretto, è un libro scritto da una compagna, da una dirigente del Lampi Nazionale, Marisa Ombra, se n'è andata a dicembre del 2019, il titolo è La Bella Politica. Una sera all'improvviso si diffuse una grande agitazione, ci venne detto che l'indomani saremmo scese in città, destinazione Asti, Era il 24 aprile, la liberazione era arrivata, la mamma trattenne astento le lacrime, era sollevata. Sono tornata molte volte sui sentimenti che si mescolarono confusamente a quella notizia, grande gioia certo, era finita la guerra, ma anche un presagio di nostalgia per quel che stava finendo, quasi una tristezza per la normalizzazione che ci attendeva, per i sentimenti più tranquilli e senza tensioni alte che avrebbero ordinato la nostra vita, che non sarebbe stata mai più straordinaria. Finiva per noi ragazze la trasgressione, l'idea di un ritorno indietro rispetto alle libertà che ci eravamo prese non ci sfiorava nemmeno. Per il momento, mescolata alla gioia, prevaleva un po' di malinconia per la fine di un'intensità di vita, di amicizie straordinarie. Comunque sarebbe stato il futuro, si presentava con un'idea di vita sotto tono, una quotidianità senza sorprese. Ad Asti arrivamo su un camioncino, sul quale avevamo caricato le biciclette in dotazione e gli scarponi di cuoio, fatti fare dai partigiani a un calzolaio langarolo. Quando scendemmo dal camioncino, le une e gli altri erano spariti. Di quel giorno, il corteo nelle vie di Asti, la folla acclamante, la gioia di tutti, battimano e le esclamazioni di entusiasmo, ricordo soprattutto la malinconia di quel futuro, di quel furto. Un brusco richiamo alla realtà, si tornava appunto alla normalità. Trottolina, in una sua testimonianza, ha raccontato che Nanni le aveva proibito di sfilare. Meglio che le ragazze non si facessero vedere nei cortei, avrebbero potuto suscitare pensieri non confacenti con l'immagine di integrità della resistenza che si voleva mostrare. Può darsi che Nanni, ex ufficiale di cavalleria Pinerolo, avesse idee particolarmente rigide sull'argomento. Da noi non è stato così, anche perché, mi pare di ricordare, al corteo dei liberatori si mescolarono coloro che nella clandestinità avevano corso altrettanto rischi e condotto battaglie altrettanto importanti. E inoltre, nelle formazioni che ho frequentato, non si erano mai verificati episodi che potessero indurre a immaginare reazioni così diffidenti da parte della popolazione. Anche quando l'entusiasmo si raffreddò e tutto rientrò nella normalità, non ho mai percepito sospetti di quel genere. So però che altrove, in non pochi casi, fiorirono insinuazioni su quel che facessero le staffette in mezzo a tutti quei ragazzi. Trovo questa reazione del tutto comprensibile, considerato che mai prima di allora il rapporto uomo-donna era stato concepito in termini differenti dal rapporto amoroso, sessuale o familiare. La trasgressione era stata grande, non si poteva pensare che sarebbe stata assorbita automaticamente. Tornammo nella nostra casa, abitata e custodita in nostra assenza, da parte di una parente. E si pose subito il problema di che fare delle nostre vite. Per la verità, dire che si pose subito il problema non è esatto, perché fu del tutto naturale pensare che avremmo continuato a fare in altri modi ciò che avevamo fatto negli ultimi anni, finalmente non clandestine. Qualunque altra alternativa sarebbe farsa un tradimento, l'idea di coltivare un progetto personale quasi vergognosa. E con queste parole, prese da Marisa, vi auguro ed auguro a tutti noi una buona festa di liberazione. Viva i partigiani e le partigiane, viva la resistenza.